Fernando Silva Di poco sopra la traversa Di poco sopra la traversa quindi E' qualcosa di straordinario Qualcosa eccezionale Allora Anche Il Napoli Deve andare Quindi Può far qualcosina di più Goulam E' Amsic e palone Può per Mertè E' il Liverpool 2 Marino Seviglia 2 Sparta e Mosca 1 Tottenham 3 Real Madrid 1 Siamo all'ottantacinquesimo Mancano 5 minuti e poi vedremo Quanto Sarà il recupero Dortmund E' Amsic Fare niente di buono Il Napoli Anche Vende Siamo Ever cesi Ci из